Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, questo è il nuovo, io sono il mister Mario, e oggi siamo qui su Minecraft, ma che delisci? Allora ragazzi, eravamo rimasti, che praticamente eravamo rimasti, che praticamente avevo finito il piano di sopra, e volevo iniziare il piano di sopra, solo ragazzi che stavo facendo un altro video quando si è spento di volta del filmone, ma scusate, ragazzi. E quindi praticamente questo è il risultato, e dobbiamo andare avanti da qui adesso, quindi adesso dobbiamo fare tipo così, aspettate che si deve fare più o meno la cosa sotto, tipo la cosa sotto così, ok. Comando a vedere Ci più gli dimentotti Ci più le dimentotti Ci più le dimentotti Ci più le dimentotti books Qui si chiudono solo questi pezzi Questo che è in giù Ok Ora si deve fare così E deve uscire una cosa così Ora si torna su e si fa Ora che siamo qui dobbiamo fare una cosa così Grazie per la visione Ok ragazzi qui invece di quello è l'acroccia C'è un'occasione quadrato così Ok così guarda lì Ok Ok E finita Ok ragazzi da qui adesso esce una cosa molto interessante Ok 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 Qui in teoria è così Qui bisogna fare Vediamo un po' 1 2 3 4 5 6 7 8 Adesso questa cosa è temporanea ragazzi Perché adesso la cambiamo Ok ho capito come farli C'è qualcosa che non va ragazzi Adesso siamo tutto off camera E Ora ve lo Ok ragazzi Forse ho trovato il modo per Sistemare il problema Allora prima ho cambiato le lastre Con gli scalini in pietra concia Perché sinceramente ho fatto i luoghi in pietra normale Però non ci sono mai passate di qui Bene Vabbè Però è niente E magari perché è a vista di fin otto Perché non lo vedo E magari dopo il video Guardandosi attentamente Riesco a trovarlo Ok Questo deve uscire Deve uscire esattamente questo Vediamo se la trovo No No Non la trovo ragazzi Quindi va bene così Allora adesso ho l'intenzione Di fare tipo una cosa così Così Ehm Mi era veramente un'ultima cosa bella da fare così 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 e così così e così proprio così ragazzi questo ora poi vabbè mandiamo avanti uno due tre 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 così proprio così e poi mandarlo avanti diversamente oi che giù d'arte oi 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 poi vabbè mandarlo avanti il tessu che si può incertare la calcetta di YouTube ok ragazzi non mi comiteo allora potremmo fare ecco così ok 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 allora andare un pozzino un pozzino un pozzino un pozzino poi fare così guardate un pozzino e un direcci cozi ok ragazzi una piccola idea mi è venuta devo fare cosi come vedete qui e andare cosi e andare cosi per lo anticorri qui cosi lo hanno ben cosi lo hanno benissimo e fare la stessa cosa per tutti i lati per tutti i lati e ci vediamo dopo ok ragazzi sta uscendo bene ho fatto una torretta grande una bella torretta che ora si estenderà ancora più piccola ecco allora vi faccio vedere una torretta così alta 10 ecco così va benissimo ok e si fa andare su tanto tanto ecco così ragazzi così mi piace tantissimo si 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 è perfetto perfetto e infine ragazzi ci vuole la bandiera quindi si va su per tipo fate andare per quattro quadretti su e se no 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 8 10 8 10 8 10 11 11 12 12 11 12 12 13 14 14 15 14 14 Ok ragazzi, questa era natura bella Mi piace tantissimo Va bene ragazzi, se il video vi piace, lasciate commento di un like qua sotto Commentate e iscrivetevi E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi